Gli uomini invecchiano meglio. Conventi loro. La tua cellulite è un problema, la sua pancia un cuscino per l'amore. Angoli, lasciate che vostro marito dorma sul divano. In studio, Roberta Pagnetti. Buongiorno signore, buongiorno signori, benvenuti ad una nuova puntata di Angoli. Lo sapete, oggi chiudiamo la settimana ma anche il mese di novembre, effettivamente il 30 novembre. Dunque salutiamo anche questo mese che abbiamo trascorso in compagnia di moltissimi ospiti. Anche questa puntata non sarà da meno. Innanzitutto fatemi ricordare angolichioccioleespansionetv.it. Nota di servizio che diamo tutti i giorni perché vogliamo ricordarvi che anche voi avete la possibilità di interagire con noi attraverso questo indirizzo email. Visto che andiamo a chiudere la settimana abbiamo pensato allora di confezionare una puntata che vi lasci degli argomenti da trattare anche nelle vostre case nel fine settimana. Vi spiego come l'abbiamo pensata questa puntata. Nella seconda mezz'ora parleremo un po' del nostro mondo casa. Noi non lo tralasciamo mai, sappiamo che è sempre uno spunto interessante appunto perché immaginiamo che molti di voi spesso cercano magari qualche bella idea per rivedere i propri ambienti domestici. Dunque che cosa faremo? Ritorneremo a parlare con gli amici di Second Life Kitchen. Ricordate li avevamo già avuti ospiti in studio, praticamente loro ci raccontano come fare a dare un'immagine nuova alle nostre cucine. Poi parleremo ancora di pavimenti come ogni venerdì ritorniamo in compagnia del centro Moquette di Senna Comasco. Oggi si parlerà di un pavimento un po' strano, un tipo di pavimentazione che esula un po' da quelli tradizionali. Parleremo di PVC e linoleum e nella prima mezz'ora invece ci dedichiamo a tutto quello che è il mondo della persona. In che modo? Parleremo più tardi di sonno, buone regole per dormire al meglio, ma vi diamo anche un appuntamento perché sappiamo che nel fine settimana a volte uno ha bisogno di sapere che manifestazioni ci sono sul territorio e allora noi siamo pronti a darvi un ottimo consiglio, ottimo, e allora vi dico con chi ne parliamo, con un signore che sono molto lieta di ritrovare nel nostro studio. Do il benvenuto al dottor Giorgio Bosetti Carcano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi fa piacere ritrovarla, lei è rappresentante della famiglia proprietaria di Villa Carcano e abbiamo già parlato insieme a lei appunto della bellezza di questa villa. Villa che è già eccezionale per conto suo, per la storia, per il parco e che questa domenica 2 dicembre ha in serbo una sorpresa per tutti. Partiamo dall'inizio però, facciamo due parole sulla bellezza della villa? Benissimo, allora la villa è una villa del fine settecento, è fatta dall'architetto Pollack, è stata sempre tenuta dalla nostra famiglia, è stata tenuta abbastanza bene e è ancora quindi in decisamente buone condizioni. In ottimo stato, sì. Abbiamo aperto il parco che la circonda, che è sempre dello stesso architetto, è fatto più o meno nello stesso periodo, l'abbiamo aperto a visite del pubblico. Siete molto attivi con le visite, so anche per le scolaresche, insomma in determinati periodi dell'anno però? Certo, soprattutto le scolaresche sono uno dei gruppi più interessanti, per loro abbiamo organizzato dei percorsi didattici, abbiamo organizzato tutta una serie di attività e abbiamo quindi tutto un settore che si occupa di questo tipo di cose. Poi abbiamo delle visite di gruppi di appassionati di giardini perché il parco è un parco molto grande. È nel circuito dei grandi giardini italiani, vero? È nel circuito dei giardini italiani, è un parco paesaggistico quindi niente geometrie ma un giardino che imita la natura con dei bellissimi viali. Abbiamo una grandissima fortuna di essere sistemati in uno dei punti più belli dell'Abrianza, siamo in cima a una collina, abbiamo delle vallette intorno. E ricordiamo dove? A Danzano del Parco, sono 12 chilometri da Como verso Bergamo, quindi molto vicino per tutta la popolazione urbana ma per tutta la zona intorno. Abbiamo visite che vengono oramai da tutta Europa e moltissime che vengono dal circondario. Poi ci sono delle giornate speciali come quella che dobbiamo ricordare, ovvero di domenica 2 dicembre, quindi questa domenica, che insomma strizza l'occhio anche agli amanti di una delle delizie della tavola, ovvero il tartufo. Perché è una domenica dedicata al tartufo, vero? Questa è una cosa abbastanza curiosa, perché è così, è venata un po' per caso in effetti. Nella tradizione familiare mia madre raccontava che più o meno 90 anni fa, da piccolina, la domenica c'era sempre il risotto con i tartufi, che venivano trovati l'intorno. Poi quest'anno, rimettendo a posto un archivio, abbiamo trovato un simpatico diario, un libro dei conti di un antenato della fine del Settecento, che parla in francese dei suoi menu plaisir, che erano però, era molto goloso, erano cioccolato, limoni che allora venivano dall'estero, e poi tartufi. I tartufi venivano portati periodicamente, più o meno ogni dieci giorni, da un signor Tanzi, che veniva dall'Urago, si chiamava Tanzi, era indicato come il Trifulat, il quale portava i tartufi tutte le domeniche. Ho parlato di questo con la signora Monti di Orto Floricola, che, interessata, mi ha messo in contatto con l'associazione dei tartufai lariani. Con loro abbiamo deciso, quest'estate, nel mese di luglio, che è un mese che non è assolutamente adatto, ma per provare, abbiamo detto, vediamo se ci sono ancora i tartufi. Perché nel parco, insomma, c'erano tracce storiche che dicevano... Tracce storiche, effettivamente, poi da 1920 nessuno più aveva cercato tartufi, qualche esperto diceva dovrebbero essercene ancora. E cosa è successo? E' arrivato, allora, uno di questi signori tartufai, è arrivato con il suo cane, e qui è successa una cosa curiosissima. Ha parcheggiato la macchina davanti a casa nostra, il cane è uscito dalla macchina, ha fatto 5 metri, si è buttato in una iuola, dove ha fatto un enorme buco, l'abbiamo tolto da lì, e aveva trovato un tartufino. E neanche a farlo apposta, subito, appena sceso dalla macchina. E allora a questo punto abbiamo proseguito nelle ricerche, un po' più seriamente. L'idea, allora, è venuta con Orto Floricola di far conoscere questa specialità locale, molto interessante, che quindi ha una valenza turistica e gastronomica, ed è assolutamente locale, comasca. È vero, ha delle caratteristiche il tartufo che si trova nella nostra provincia? Diciamo che questo è un discorso che lasciamo agli esperti, direi che è un tartufo nero, ce ne sono, ne hanno trovate una decina di specie diverse, tutte commestibili, alcune senza interesse, ma alcune decisamente buone. I tartufi che sono stati trovati sono piccoli, ma forse dipende dalla stagione, perché poi come tutte queste cose bisogna che piova, bisogna che non piova, che faccia freddo, che faccia caldo. Però diciamo che la stagione giusta poi è questa, effettivamente, e da qui la decisione di fare la domenica 2 dicembre. La domenica del tartufo. Abbiamo fatto l'anno scorso una prima operazione alla fine di novembre e ha avuto gran successo, perché avevamo avuto anche una giornata bellissima, perché la giornata del tartufo è anche un'occasione per girare nel parco e vedere questo posto con dei paesaggi molto belli. E allora abbiamo pensato che questo anno lo rifacciamo un po' più in grande. Abbiamo appena visto l'home page del vostro sito internet, perché noi invitiamo tutti voi all'ascolto che volete vedere il parco di Villa Carcano, che volete mettervi alla prova con la ricerca del tartufo, adesso capiremo le modalità e come è stata organizzata. Andate sul sito www.villacarcano.it, lì ci sono i numeri di telefono, anche perché, dobbiamo dirlo, bisogna prenotarsi. Sì, sarà necessario prenotarsi per una questione organizzativa proprio. Come l'avete pensata la giornata? Allora, ci si ritrova praticamente con i tartufai alle 10 e mezza all'ingresso, avremo un paio di esperti di funghi e tartuffi, c'è anche l'aspetto funghi che possiamo poi toccare, anche se adesso non ce ne sono praticamente di interessanti. Questi signori ci racconteranno, racconteranno ai visitatori un pochino vita morta del tartufo, dove cresce, dove si suppone che si trovi, perché poi si trova sempre in altri posti, in effetti. Ma il tartufo è una specie di fungo comunque, è vero? Il tartufo è un fungo, cos'è il fungo ipogeo, cioè sotterraneo, è il fungo, più o meno è un fungo come lo conosciamo, solo che lui cresce sottoterra. Cresce in simbiosi con alcune piante particolari, quindi le querce, i frassini, noci, nocciole, aceri, piante che si trovano qui abbastanza facilmente. Quando è maturo emana un profumo fortissimo, che noi francamente non sentiamo, ma che i cani e anche i maiali, tra l'altro, sentono. E questo è una cosa incredibile, perché il tartufo sta più o meno una decina di centimetri sottoterra. I cani sentono il suo profumo anche a una decina di metri di distanza. Quindi ci saranno domenica dei tartufai e i loro cani. Con i loro cani, che sono una razza speciale che si chiama Lagotto. Sono dei cani molto vivaci, molto simpatici, quindi ogni tartufaio avrà uno o due cani. A che ora vi ritroverete? Ci ritroveremo alle 10 e mezza, ci sarà questa piccola introduzione, poi ci divideremo in gruppi, ogni gruppo con un tartufaio e si parte a questo punto nel parco. I cani sono abbastanza veloci, quindi dovrà camminare. Devirà essere un po' allenati per stare dietro. Più o meno noi pensiamo che in un'ora e mezza tutto il territorio sarà stato coperto. Alla fine di questo ci ritroveremo tutti insieme di nuovo, vedremo la raccolta, celebreremo la raccolta a questo punto con un buon vino e magari anche uno spuntino in atmosfera di tartufo. C'è Simone Galli della posta di Longone che mi aiuta in questa operazione spuntino. Io non sono bravo nel cercare i tartufi e nel trovarli. Ci sono i maestri e quindi cerco di essere alla fine del processo per profittare. Vedremo la raccolta come andrà perché il fatto che vi dividerete anche a squadra rende abbastanza simpatica questa attività perché poi si vedrà anche chi raccoglie più tartufi, chi avrà maggiore fortuna. Sì, è una cosa molto curiosa, naturalmente tutti saranno abbastanza gelosi di quanto hanno trovato e sicuramente non diranno dove l'hanno trovato. È vero? Sì, tra loro sono molto amici e molto simpatici però preferiscono andare ognuno per conto proprio. C'è una sorta di etica e di comportamento anche in quel campo. Poi sarà l'occasione anche per vedere dei tartufai all'opera, insomma è un lavoro comunque non usuale quindi sarà bello anche un po' scoprire loro come lavorano, come si comportano. Assolutamente, è un gruppo estremamente simpatico e efficace a questa attività. Diamo un consiglio pratico proprio, dottor Carcano, ovvero per chi deciderà di partecipare e io ricordo ancora una volta www.villacarcano.it per prenotarvi perché sennò magari si rischia di non riuscire ad organizzare bene la giornata. Diamo dei consigli pratici, sarà un po' freddino magari domenica? Sì, ecco, speravamo in un clima migliore ma è già molto migliorato rispetto a quello di qualche giorno fa. Almeno non dovrebbe piovere. Non dovrebbe piovere, però naturalmente ha piovuto, quindi scarpe pesanti naturalmente e penso che farà abbastanza freddo. Quindi? Penso che sarà abbastanza freddo e forse anche un po' ventoso. Siamo entrati in inverno. Quindi di conseguenza regolatevi una bella giaccavento, scarpe calde e pesanti. Io la ringrazio tanto perché ci ha dato un appuntamento speciale. Sappiamo che molti a casa adesso si organizzeranno, quindi abbiamo dato veramente un'idea per cambiare la qualità del nostro fine settimana. La ringrazio. Vi aspettiamo. Grazie molte a lei, a voi tutti. Grazie. Buona giornata allora. Grazie allora al dottor Giorgio Bosetti Carcano. Spero di riaverlo presto nel nostro studio, ma prima dobbiamo fermarci perché è arrivato il momento della musica. Ascoltiamo Cristina Ghilera con Candyman e poi siamo di nuovo in diretta. E ritorniamo in diretta nel nostro studio di Angoli. Vi avevo promesso che saremmo ritornati a parlare del sonno. Insieme ad uno specialista del sonno, voi mi direte, ma come? Cosa vuol dire, no? Della qualità del dormire bene. E' un argomento importantissimo, noi insistiamo perché se dormiamo bene vuol dire che anche la qualità della nostra giornata poi ne risente in meglio. E allora abbiamo detto, perché non può ritornare nel nostro studio uno specialista, uno che ci dà tanti ottimi consigli e lui è ritornato. Buongiorno Fausto Varnia. Buongiorno. Titolare della Barflex Materassi e Reti Perletti. Dunque la persona giusta per darci ottimi consigli per dormire bene. Anche perché si avvicina a fine settimana e c'è il tempo, forse un po' più tempo per riposare. E' un po' più freddo che sta arrivando in vita. Queste sono le giornate giuste dove uno giustamente va a lavorare, va a compiere tutte le sue attività durante la giornata, ma dice ma perché io devo alzarmi dal letto in fondo, vero? Perfetto, se dorme bene, riposa bene, cercherà di restare a letto il più lungo possibile. Capita spesso invece che dopo quelle 6-7 ore uno sente la necessità di alzarsi perché ha un po' di mal di schiena. Eh sì, e quando succede questo, ovvero quando ci svegliamo e non siamo rigenerati, quando ci svegliamo e ci rendiamo conto che siamo un po' più stanchi di quando siamo andati a dormire, un po' doloranti, vuol dire che qualcosa non va. E' un sintomo, diciamo. E' un sintomo. Infatti se andiamo a letto che non abbiamo nessun tipo di dolore, siamo solo stanchi, dovremmo rialzarci la mattina, svegliarci con un bel riposo, belli riposati. Questo non accade sempre purtroppo. Purtroppo sì, ci si alza magari con i rigidimenti del collo, della schiena, ed è spesso dovuto proprio al letto dove stiamo dormendo. Dove per letto non intendiamo solo magari il materasso, solo magari il nostro guanciale, è proprio un sistema, perché quando lei viene nel nostro studio ci ricorda che esiste il sistema letto, cioè è l'insieme di più elementi. Esatto, è l'insieme di più elementi che vanno combinati nel modo giusto per ottenere l'effetto che appunto cerchiamo, cioè di riposare, di distribuire il peso nel modo migliore possibile per aumentare la circolazione, migliorare la circolazione. Abbiamo accennato per le signore che questo miglioramento della circolazione favorisce esatto, la possibilità di diminuire l'effetto cellulite. Eh sì, e qui ci ritorniamo, posso calcare un po' la mano su questo? Perché a parte che quando noi donne sentiamo circolazione già abbiamo un'antenna alzata, perché lo sappiamo è una conseguenza insomma. Una conseguenza, esatto. Quindi un letto giusto anche per noi signore, non solo ci fa svegliare più riposate, ma magari riesce anche ad aiutarci un po' sul lato estetico in qualche modo? Diciamo che sì, diciamo di sì. La combinazione, poi gli elementi che compongono questo letto magico, sono fatte sicuramente da un piano rigido ortopedico, e a tal proposito mi viene in mente che spesso mi chiedono un materasso, io ho sempre la domanda su che base lo volete appoggiare, perché è importantissimo sapere che cosa usano i nostri clienti. Diamo un po' di consigli pratici per il sistema letto perfetto. Se proprio dovessimo arredare una camera da letto ora vuota, dovessimo prendere da zero tutti i nostri mobili, scegliamo proprio il meglio dal suo punto di vista. Sì, diciamo che adesso c'è molto la tendenza ad utilizzare il letto anche come contenitore. Sì. Quindi questo contenitore, ritornando alla domanda che facevo prima ai clienti, è sì un'ottima soluzione perché è un salvaspazio incredibile sotto il letto, ci sono tantissime cose voluminose che non hanno posto negli armadi. E' altrettanto vero che quando noi chiudiamo questo contenitore, e durante la notte passiamo la nostra notte normalmente, ma lasciamo una condensa, la nostra normale trassudazione. Purtroppo è un sistema che non è adatto per esempio ai materassi in lattice, quindi è subito da sconsigliare assolutamente su un letto contenitore un materasso in lattice. Questo perché il lattice che cosa fa? Perché il lattice è sempre un ottimo prodotto traspirante, si comporta come una spugna, però ha bisogno proprio di avere aria, quindi di asciugarsi e di respirare da sopra, sotto. Ok, quindi... Se invece va sotto, diciamo questa umidità si ferma all'interno che non viene alzata tutte le mattine, e allora in questo caso troveremo sì delle condizioni igieniche un po' negative per il nostro materasso, ma anche per la nostra salute. Quindi se abbiamo il letto contenitore, che molto va di moda in questo momento, molto ci aiuta a salvaguardare gli spazi della casa, iniziamo ad escludere quelli in lattice. Che cosa possiamo utilizzare quindi in quel caso? Suggerisco di stare sul materasso a molle tradizionale, con un buon rapporto qualità-prezzo, è una spesa non eccessiva. o di utilizzare invece per, come diciamo il top adesso del benessere, sarebbe un materasso con schiume poliuretaniche che hanno una superficie d'appoggio in memory, famoso memory o visco elastico. Che è quello che lei ci aveva portato l'ultima volta che è stato nostro ospite. Perché per chi l'avesse perso, l'ultima volta che Fausto Barnia è venuto nel nostro studio ha portato un espositore bellissimo, era molto semplice, però era chiaro perché di fatto che cosa succedeva in quella prova? C'era un materiale elastico, quindi qualunque tipo di materiale elastico dal latte c'è un poliuretano elastico, un materasso a molle o anche questo cuscino del divano, e un materiale invece in visco elastico. La differenza notevole è che appunto il visco elastico assorbiva tutta l'energia che trasmetteva questa pallina di ferro, mentre l'elastico la respingeva. Quindi c'è una parte elastica e una parte che era visco elastica. La capacità di assorbire questa energia è un po' quella che noi trasmettiamo al nostro letto. Noi trasmettiamo un peso sul nostro letto e quindi se il nostro letto assorbe la nostra energia ci toglie le pressioni che abbiamo nelle vari punti. Maggiori punti sono appunto le anche, e ritorniamo al discorso delle signore, le spalle dove abbiamo spesso dolori, e poi arriviamo alla cervicale. Cosa che, per questo parliamo di sistema letto, perché a volte mi chiedono un cuscino per la cervicale, che ci sono, orto cervicali, chiamiamoli come di qualsiasi fattura e natura sia fatto questo cuscino, da solo non è sufficiente probabilmente per dare sollievo alla cervicale. Perché il sistema... Aiuta però, di volta in volta, io devo chiedere su che cosa dormono, dove va a dormire con questo cuscino. Perché quando dormiamo su pini, più o meno sappiamo che un cuscino non altissimo ci serve solo per sostenerci un po' il capo. Mentre quando dormiamo sul fianco, abbiamo un'altezza, ognuno di noi, un'altezza dalla spalla al collo diversa. Quindi andrebbe utilizzato un cuscino adatto alla propria corporatura. Ma per capire che altezza ha, devo sapere se la spalla entrerà, quanto entrerà nel materasso. Quindi questa escursione qua mi porta a far fare delle prove, anche lì in negozio, su un materasso idealmente simile a quello che hanno a casa, al che scattolo ovviamente l'idea ma perché non cambiamo tutto il sistema letto e andiamo a fare una cosa più. Eh sì, perché se ci rendiamo conto che gli elementi del nostro sistema letto fra di loro non si incastrano e non c'è modo di metterli in comunicazione fra loro, possiamo cambiare il cuscino quanto vogliamo, ma tanto se tutto insieme non ci dà un riposo completo, insomma siamo punti a capo, no? Siamo sempre al solito discorso che si pensa spesso che un materasso rigido sia il top, il massimo per la nostra schiena, questo comporta che la nostra schiena si adatterà a questo piano rigido invece di essere il contrario, cioè deve essere il materasso che si deve adattare alle nostre forme. Allora, visto che non l'abbiamo ancora fatto, ricordiamolo perché se poste alla ricerca del sistema letto perfetto, Fausto giustamente ci diceva, insomma si possono fare tutte le varie prove, se ne può parlare e ci dava riferimento proprio della Barflex Materassi e reti per letti. Dove vi trovate che non l'abbiamo detto oggi ancora? Siamo a Cucciago, un via Cantù 13 dove abbiamo appunto tutti i letti a disposizione per le prove. www.barflex.com è il sito internet, ecco qui iniziamo a vedere l'home page e ricordiamo che su sito probabilmente anche le avevamo viste, proprio ci sono delle fotografie che ci mostrano quando si dorme bene, ovvero l'assetto insomma della spina dorsale, insomma alla fine una persona che dorme bene ha una spina dorsale? Allora se dormiamo su pini la nostra schiena ha la stessa forma, ha la forma di quando stiamo in piedi, quindi dobbiamo assecondare una S naturale, ognuno c'è la sua S, mentre quando dormiamo sul fianco la nostra schiena è diritta, quindi per far sì che questa colonna vertebrale appaia orizzontale dobbiamo assecondare il cuscino con il collo che non sia troppo su, troppo giù, le anche che scendono, le spalle che scendono, di modo che abbiamo un equilibrio a quella posizione, teniamo le gambe un po' rannicchiate così si scarica un po' la schiena, un po' come i bambini, un po' fetale diciamo, poi siamo proprio nel momento migliore. Io so anche che sta per arrivare, eh sì 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 sì, siamo in fase promozione perché guardavo le date, che cosa succede dal 10 al 16 di dicembre? Dal 10 al 16 di dicembre fino al classico, fino all'userimento scorte, per una settimana siamo al centro commerciale Miraberlo di Cantù e proponiamo materassi memory di varie qualità raccolti proprio da stock. Quindi abbiamo, facendo attenzione alla qualità sempre, che ci distingue, abbiamo trovato delle soluzioni che sono vantaggiosissime prodotti, diciamo, sotto il metaprezzo. Bene. Sotto il metaprezzo è abbastanza accantilante. Che un buon materasso in memory adesso si aggira sul matrimoniale, sto parlando sui, sopra i 1000 euro, quindi lì siamo vicino ai 500 e anche sotto. Beh, insomma, se non è una tentazione questa, io direi, anche perché, insomma, si avvicinano, io la butto lì, perché io la penso sempre così, si avvicina anche al periodo di Natale, magari già cerchiamo un, cerchiamo solitamente di indirizzare i regali sull'utilità, no? Quindi magari fossimo in fase di regalo, un regalo utile, può essere la scusa buona. Sarebbe ottima, magari per i nostri genitori. Vero, ma anche per noi, perché no? Per tutti, anche per i nostri bambini, anche solo un cuscino fatto bene che ci può alleviare un po' la pressione. È vero, li dimentichiamo sempre, ma in realtà tutto quello che noi raccontiamo vale anche per i bambini. Assolutamente sì. Diciamo che loro hanno un'elasticità e che noi abbiamo avuto un'elasticità fino ai 20 anni per dormire anche sui sassi. Questo è il corpo. Però già cominciare a dargli una posizione un po' corretta, diciamo, anche da piccoli. È ovvio che un materasso, quando facciamo la prima cameretta, è un materasso grande, è un materasso per adulto, non può avere le proporzioni per un bambino che pesa 20 kg. Certo. Diciamo che gli diamo un materasso adeguato, di solito per l'igiene soprattutto, in modo che sia sfoderabile e lavabile ad acqua, il tessuto e il fodero. E poi con una morbidezza tale che lo accompagni verso l'adolescenza in un modo un po' più congrosa. Facciamo così. È finito il tempo a nostra disposizione purtroppo. Allora io vi rimando come sempre a sito internet www.barflex.com per avere maggiori informazioni. Sono a Cucciago, si può andare, provare. Poi c'è la promozione, abbiamo visto che non c'è più scusa per non venire a provare il proprio sistema letto adatto. Grazie mille al titolare Fausto Barnia. Grazie a voi. Ci ritroveremo, mi auguro. Noi ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, una piccola pausa, poi ritorniamo insieme, sempre in diretta, un'altra lunga mezz'ora di Angoli. Ultima mezz'ora per questa settimana per il nostro salotto di Angoli. Abbiamo ancora molto da raccontarvi, dunque rimanete comodi sulle vostre sedie, sulle vostre poltrone, perché vi ho detto ci occupiamo adesso del nostro mondo casa. So che tanti fra di voi sono appassionati all'argomento, dunque avremo tanti stimoli anche in questa seconda mezz'ora. Ricordo come faccio a quest'ora tutti i giorni, ancora una volta, il nostro indirizzo email angoli-espansione tv.it. Ci rendiamo conto di raccontarvi sempre moltissime cose, magari non si riesce sempre a segnarsi quello che serve, allora se perdeste mai qualcosa che vi interessava, scriveteci. Noi siamo pronti a darvi tutte le informazioni del caso. Allora, vi avevo promesso che sarebbero ritornati gli amici di Second Life Kitchen. Ve l'avevo promesso o no? Io mantengo le promesse. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Federico Vago. Buongiorno. Buongiorno. Ricordo, socio di Eco5SRL, consulente di Second Life Kitchen per Como e Lecco, corretto. Giusto. Ed è ritornato ancora una volta insieme a Valentina Morlacchi. Buongiorno Valentina. Buongiorno Roberta. Sempre consulente SLK, diciamo così per riassumere. Esatto, per abbreviare. Però per la provincia di Milano. Esatto. Allora, per tutti voi che magari avete perso il primo incontro che abbiamo avuto con loro, insomma, non temete, vi raccontiamo quello che è un'idea, un progetto bellissimo. Second Life Kitchen, ovvero la seconda vita di una cucina. Chi mi spiega, chi mi fa un breve riassunto per chi si fosse perso, insomma, di cosa stiamo parlando? Allora, Second Life Kitchen nasce dalla la constatazione è che moltissime volte le persone sono stanche di vedere sempre la stessa cucina, è sempre lo stesso colore, la cucina è un ambiente molto vissuto e molto utilizzato nella casa e magari dopo un po' uno pensa di essere stanco di vedere le antine di legno, le vuole magari brillanti, colorate, eccetera, però i costi per cambiare tutta la cucina sono molto alti e spesso proibitivi. E quindi di solito ci freniamo solitamente e diciamo vabbè, in fondo funziona ancora la mia cucina, vabbè, la tengo così com'è. Certo, allora la constatazione che abbiamo fatto come Second Life Kitchen è che di solito la struttura della cucina, che è molto meno sollecitata rispetto al piano di lavoro e le antine, è ancora in ottimo stato e quindi la struttura resta al suo posto, noi sostituiamo le antine, con antine nuove, poi dopo entreremo un po' più nel dettaglio per far vedere quali sono le tipologie più diffuse, perché poi si possono fare anche tutte le cose su richieste specifiche, ma abbiamo già un campionario di migliaia di combinazioni tra finiture, colori, eccetera, e eventualmente anche cambiare il top, il piano di lavoro o solo il top o solo le antine o una parte e poi magari cambiare invece di avere le antine e mettere dei cassettoni per avere maggiore funzionalità e cose del genere. Però si tratta proprio di dare un nuovo look alla nostra cucina senza fare stravolgimenti eccessivi e Valentina, chiedo a lei, anche perché ne avevamo già parlato l'altra volta, e rassicuriamo ancora le signore all'ascolto perché abbiamo tutte la sindrome della casalinga, ovvero, oh mamma mia, questi lavori chissà che polvere tirano in casa, chissà quanto durano. In realtà, lo vediamo anche dalle immagini, insomma, Second Life Kitchen si è inventato veramente un lavoro veloce e precisissimo. Sì, su misura, per qualunque tipo di richiesta che abbia il cliente, veloce, perché io arrivo la mattina e alla sera hai la tua cucina diversa e come la vuoi adesso, e il fatto che non ci sia necessità di svuotare basi piuttosto che pensili, perché se io cambio solo l'esterno posso lasciare i piatti, i bicchieri, esatto, posso lasciare le pentole dove sono, cambio semplicemente quello che c'è esternamente che io vedo e l'interno rimane esattamente com'è, per cui non devo fare gli scatoloni come perra e l'ultrasloco, per cui mi devo mettere a inventare dove appoggiare i piatti, insomma, per cui... Quindi io faccio colazione la mattina nella mia cucina, così come la vedo da anni, e poi esco, faccio la mia giornata lavorativa, sbrigo tutti gli impegni e di sera io entro nella mia cucina dei sogni, bellissimo, allora vedete, adesso vi raccontiamo un pochino nel dettaglio, perché diciamo subito che avremo degli incontri di settimana in settimana, io sono tanto contenta di questo, perché veramente andremo a toccare un po' tutti i vostri lavori, no? Esatto. Oggi da dove partiamo? Oggi partiamo dalle ante, che sono comunque la parte che si vede di più, che si nota di più della cucina, per cui abbiamo portato dei piccoli campioni per far capire le varie tipologie di finiture e dei campioni anche di colori. Allora, la cosa bella è che mi avete portato, li vedremo singolarmente, ma il colpo d'occhio era bellissimo perché è proprio la bandiera italiana che ci avete portato. Esatto. Bianco e rosso, perché sono i colori del logo di Second Life Kitchen, perché è prodotto italiano, 100% italiano. Made in Italy, quindi questo è un grande vostro punto di forza. Esatto. Valentina, vediamo un po'. Ho in mano un'antina in laminato lucido, per cui è un'antina che ha lo stesso effetto del laccato, ma con un materiale totalmente diverso, quindi abbiamo la possibilità di avere un'antina colorata, senza particolari problemi di mantenimento, di lavaggio, perché comunque è un materiale resistente. Lo spessore, come vedete, è uguale a tutte le altre antine, per cui non abbiamo problemi di modifichiamo l'antina, oddio, vedo due profondità diverse. E questo è un esempio delle maniglie che possiamo avere, quella grossa in alluminio, piuttosto che quella un pochino più piccola, non avere la maniglia per cui avere il push-pull premia, per cui ci sono varie possibilità. Diciamo che queste sono una delle possibili tipologie, ma guardate che è un mondo infinito, perché poi, ecco, l'antina verde, stile la bandiera italiana, ve l'ho detto, permesso. Non in ordine, non siamo giustamente in ordine, però sì. Questo invece è sempre laminato, ma col profilo in alluminio, per cui a chi piace avere il profilo diverso rispetto al frontale, c'è la possibilità di averlo in alluminio. E questa è un'altra maniglia diversa. Maniglia un po' fatta a prisma, tra virgolette. Esatto, più arrotondata, un pochino più morbida. Questa viene scelta soprattutto quando si hanno i bambini, per evitare che ci siano spigoli. Ah, spigoli vivi, chiaro. Esatto, esattamente. Vero, vero, vero. Poi arriva il bianco, perché è bandiera italiana fino alla fine, eccola qui. Esattamente, questa invece è la lantina in laccato, per cui laccato opaco, laccato lucido, in questo caso lucido, quindi una vernice che viene applicata sull'anta. E questa è un'altra tipologia di maniglia molto diversa, perché come vedete è un po' più spessa, è un po' più grossa, diciamo così, un po' più evidente. È un po' più importante, magari per chi ha i dettagli, un po' di design, così che possono fare un po' la differenza, perché poi gli accessori, i dettagli, lo sappiamo che se scelti nel modo giusto, che hanno dei richiami in casa, insomma, rendono piacevole. Esatto, molto più piacevole, assolutamente sì. Per tutti quelli che si stanno chiedendo, sì, vabbè, ma ci sarà una sola misura di antine, poi magari non mi ci sta, poi non si adatta perfettamente? Infatti, ciò che Second Life Kitchen è riuscito a mettere a punto è un sistema di produzione, per cui pur facendo una produzione su misura, quindi vengono rilevate da un consulente Second Life Kitchen esattamente le misure delle antine esistenti, in modo che vengono rifatte, sostituite, non ripulite o riverniciate, vengono proprio fatte completamente nuove, su misura, su qualunque misura, a costi da produzione di serie, anche se è fatto su misura, cioè vengono utilizzate gli stabilimenti delle grandi produzioni, ma siamo riusciti a trovare un sistema per cui riusciamo a inserire nella produzione di serie tutte le antine frontali di cassetti, frontali di frigo, di lavastoviglie, e tutto ciò che c'è in una cucina, fatto su misura, specifico, per la singola cucina. E qui ritorniamo a quello che ci dicevate prima, insomma, anche proprio l'importanza, anche da un punto di vista economico, perché bisogna un po' guardare in questo momento a questo fatto, ovvero che cambiare una cucina ha un costo, ma vedersela nuova con questo metodo, insomma, non c'è paragone, insomma, anche da un punto di vista della spesa. Da un punto di vista economico si risparmia dal 50 al 70%, almeno rispetto a fare la cucina completamente nuova. Stiamo vedendo altre fotografie, altre possibili, perché sono infinite le possibilità di queste antine, veramente, adesso ne vedremo altre perché abbiamo anche campionare in studio, però continuiamo a vedere queste fotografie, prendendo come escamotage proprio quello di dare il sito internet www.infoslk.com, facciamo così perché quell'altro è lunghissimo, inglese, no perché se no potete anche fare www.secondlifekitchen.com, ma lì ci si scontra con le lezioni di inglese, lo sappiamo, chicken kitchen, l'abbiamo già detto. Numero verde, in sovrimpressione, volesse mai fare la chiamata, l'abbiamo visto. Esatto. Arriviamo, Valentina, a vedere un po', perché io quando dico c'è grande scelta, non lo dico a caso, no, perché tutti i gusti, insomma, sai che ognuno ha un gusto diverso alla fine, no? Esattamente, ma infatti le maniglie che vi facevo vedere, quelle soprattutto verdi e rosse, le maniglie, le antine, questi sono i laminati che si possono utilizzare per fare tutte le antine, sostanzialmente sono un centinaio di colori che io posso scegliere, dal bianco al nero, con tutte le varianti sia opache che lucide, per cui è possibile. Mostriamole un po', oh, perfetto, guardale lì, regge, regge, è un po' difficile, esatto, è un po' difficile perché sono solamente tanti colori che non... Esattamente. Quali sono quelli un po' più di tendenza, tra virgolette, adesso? Il bianco è tornato tantissimo di moda, e il rosso, il rosso va sempre perché comunque dà allegria, è spontaneo, anche il nero. Sono tutti colori molto forti, molto di carattere, per cui il pannino, il giallino sono un po' meno richiesti. Ah, adesso basta, bisogna usare, è il periodo dove bisogna usare. Assolutamente sì, assolutamente sì, non bisogna più essere timidi nell'avredamento, vero? Esatto, esattamente. Anche perché è bello in fondo, in un periodo forse anche in cui si è sempre un po' moggi, perché diciamoci la verità, insomma non è che c'è proprio da ridere alla grande. Entrare in casa, vedere una bella tonalità di colore acceso ci fa anche un po' di allegria. Sì, spesso si sceglie magari il bianco per poter utilizzare degli accessori più colorati, per cui dare un po' più di personalità alla cucina. Federico, vedo che ha preparato un ventaglio degno di una scala 40. Il campionario è dei colori del laccato, perché praticamente queste sono quelle che si chiamano i colori RAL, che è uno standard industriale di vernice che identifica esattamente dei colori, però siamo tutti dritti. Insomma vale per capire che ce n'è una quantità esagerata. Siamo quelli standard, però se qualcuno ci chiede di avere un colore particolare, ci dà un campione di qualcosa che ha in casa, e dici io voglio le antine fatte esattamente di questo colore, noi siamo in grado di fargli esattamente, riprodurgli il colore che ci chiede. Io non mi rendo conto come mai, secondo me velocizzano il tempo, è finito il tempo a nostra disposizione. Allora, o c'è qualcuno che bara dalla regia, no scherzo ovviamente, serve a dire che devo salutarvi, però fatemi ricordare che i riferimenti sito internet e numero verde servono a chiamare un consulente disponibile ad andare a vedere un po' le nostre cucine, giusto? Esatto, esatto. Qualunque sia la richiesta noi siamo disponibili insomma al sopralluogo, anche a consigliare quale che sia la soluzione migliore per la cucina, insomma. Allora, io vi saluto, ma felice perché so che tanto ci rivedremo la prossima settimana, intanto ringrazio Federico Vago, consulente di SLK per Como Elecco, grazie. Prego. E grazie Valentina Morlacchi, consulente per la provincia di Milano, molte grazie. Grazie a te Roberta. E allora lì ritroveremo, è una promessa, noi adesso ci interrompiamo per il nostro secondo momento musicale, ascoltiamo insieme Shania Twain con That Don't Impress Me Much e dopo siamo sempre qui ad Angoli. Era Shania Twain, la stavamo ascoltando con allegria insieme al nostro prossimo ospite che ha promosso la scelta musicale, quindi sono molto lieta, ballavamo un pochino, no scherzo. Do il benvenuto e chiudiamo con lui la settimana, oramai è un appuntamento fisso, sono lieta, lieta di ritrovarlo. Buongiorno Riccardo Peduzzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, titolare di Centro Moquette, è oramai presenza fissa del nostro salotto, che bello ritrovarti, tutto bene? Sì, sì, benissimo. Dai che stiamo facendo il nostro consueto percorso, ogni settimana attendiamo il venerdì per capire di che tipo di pavimentazione parliamo in questa nuova puntata. Vediamo di aggiungere qualche alternativa. Eh sì, qualche alternativa perché c'è l'imbarazzo della scelta e partiamo da questo punto di vista. Abbiamo parlato già di parquet. Settimana scorsa Moquette, dove tu hai fatto l'avvocato della Moquette, molto convincente peraltro. Mi fa piacere. Oggi invece, Riccardo, di cosa parliamo? Dimmi un po'. Parliamo di materiali plastici, in particolare PVC e linoleum, che secondo me hanno una destinazione d'uso molto specifica e molto importante anche per l'ambiente residenziale. Quindi secondo me può andar bene per chiunque fosse interessato. Adesso cercheremo di capire bene dove si può utilizzare. Una cosa che dobbiamo dire subito è che tu mi dicevi, mi avevi scritto insomma questa piccola nota, ovvero è un pavimento per ambienti o locali umidi tendenzialmente, vero? Esatto, secondo me è una cosa più importante. Molto importante perché in passato era difficile, diciamo, poteva rappresentare un problema nella mentalità della gente mettere un pavimento in un ambiente che può essere una cantina, che può essere un bagno, una doccia, un ambiente dove comunque c'è dell'umidità, c'è dell'acqua. Questo tipo di materiali può risolvere il nostro problema, quindi è una soluzione in più, anzi è forse una delle poche soluzioni che si possono avere, perché è un materiale che resiste all'acqua, un materiale che non ha nessun tipo di problemi per quanto riguarda umidità di risalita ambientale e che adesso offre anche delle soluzioni estetiche assolutamente ottime. Degne di nota, eh sì, perché magari uno sai che cosa succede, dice va bene il linoleum, va bene il materiale in PVC, però secondo me non ha personalità. No, ho sbagliato questo. Assolutamente, anzi, sì sì, sono materiali che le cui funzioni estetiche sono studiate da designer, da architetti che gli danno per dare all'ambiente una certa personalità. Abbiamo visto un po' di fotografie per gli impieghi d'uso, abbiamo visto anche, no adesso non voglio perché l'ho interpretato io, diciamo così, dove viene utilizzato maggiormente al di fuori del residenziale? Al di fuori del residenziale le destinazioni d'uso sono per esempio le spa, quindi dove c'è un grande traffico di persone e dove chiaramente ci può essere un maggior uso d'acqua. E' vero, quindi tutti quegli ambienti dove magari c'è, ci sono le docce, gli idromassaggi, quindi la spa, i centri benessere. Ma noi abbiamo fatto tantissimi fornitori anche per quanto riguarda le palestre, quindi quegli ambienti che poi vengono fatti, diciamo, a contorno della sala pesi, quindi dove comunque c'è una grande sollecitazione. Però dicevi, anche in casa non sottovalutiamolo, perché il bagno può essere un ambiente giusto? Ma adesso stanno aumentando i clienti che fanno tutto l'appartamento in linoleum e PVC per esempio. Perché così si può avere un ambiente unico partendo dal salotto, entrando in cucina, entrando in bagno, senza avere degli stacchi che magari non possono rappresentare un compromesso. E c'è anche una manutenzione comoda poi per il pavimento? Assolutamente, stiamo parlando, per quanto riguarda i pavimenti, stiamo parlando assolutamente del massimo. Quindi è il materiale che a livello di manutenzione probabilmente ha le caratteristiche migliori in confronto a tutti gli altri. Nel senso che? Nel senso che si lava semplicemente con, praticamente con uno sciac, con uno straccio umido. Uno straccio umido, quindi comodissimo. Non bisogna preoccuparsi di nessun tipo di macchia perché la class, parlavamo l'altra volta della prova a caffè, la prova a caffè qui ovviamente raggiunge i livelli migliori in assoluto. Altro che caffè, si può fare la prova a vino. Il fatto che venga utilizzato anche in ambienti come ospedali, cliniche, cliniche dentistiche come può essere per esempio, dimostra che ha una resistenza nel tempo assolutamente eccezionale. Ok, allora, è giunta l'ora. Abbiamo fatto la dovuta introduzione un po' sulle caratteristiche e sui possibili modi d'uso e di impiego. Ricordiamo, prima di arrivare a vedere appunto il lato estetico del pavimento in PVC, che Centro Moquette è una realtà che si trova dove? Sena Comasco, quindi a pochi minuti dal centro, pochi minuti dal Cantù, quindi raggiungibile da qualsiasi... Da tutte le parti della Lombardia. Esageriamo. No, vabbè, per i comaschi è comodissima, per la città di Cantù è molto comoda. Comunque tutte le informazioni su www.centromoquette.it Dicevamo, valenza estetica del pavimento in PVC. Cerchiamo di capire un po', tu sei sempre molto cortese e cerchi di portarci proprio degli esempi pratici. Infatti, cominciamo. Cominciamo. Allora, no. Il primo esempio riguarda i pavimenti, che ho dicevo prima, vengono utilizzati negli ambienti più pubblici, come possono essere gli ospedali, per esempio. Quindi, per quanto riguarda questo, parliamo di, diciamo, più pratica che estetica, anche se comunque vedete che la scelta dei colori è molto ampia, quindi... E anche, viene comunque ricreato... Sono tinte unite, quelle che vedo? Sono dei marmorizzati. Ah, ok. Esatto, anche per una questione di varietà del pavimento. Ok, quindi, insomma, gamma colori innanzitutto molto estesa. Gamma colori molto ampia, quindi si possono trovare, diciamo, trovare tutte le soluzioni che si possono, che si vogliono. Qui andiamo su qualcosa di più particolare, ecco, effetti resina, effetti pietra. Perché mi piace sempre molto, Riccardo, che tu parti soft, insomma, con la tradizione, però poi sempre lasso nella manica e dici, vabbè, vediamo adesso. A parte del mio lavoro è cercare dei materiali che si differenziano, quindi... Certo. Guarda, 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 vediamo un pochino. Riesco, se riesco a farli vedere. Effetti legno, che su cui poi volevo insistere, perché... Effetti legno ci arriveremo, perché, insomma, uno non ci pensa, ma il PVC è un pochino. Si, ha anche l'effetto legno, ma arriviamo a parlarne dopo. Effetti pietra e effetti resina. Ecco, effetti resina significa? Per, diciamo, per utilizzare questi materiali al posto di una resina che avrebbe dei costi maggiori e che avrebbe dei problemi di manutenzione superiore. In questo caso andiamo a sovrapporre su un pavimento già esistente questi materiali che permettono di dare l'effetto che vogliamo dare senza, tra virgolette, creare scompiglio all'interno della casa oppure... Anche perché, appunto, il pavimento in PVC e in linoleum ha costi differenti, diciamo, rispetto magari... Sì, sì, ha dei costi limitati, quindi sono alla portata di tutti, poi dipende sempre dal, come dico io, dal budget che uno vuole spendere e noi gli troviamo soluzioni. Però, visto che noi stiamo facendo proprio puntate a tema sui diversi tipi di materiali, ricordiamo anche che uno dei pregi, in questo caso, di questo tipo di pavimentazione è che, rispetto alle altre, ha costi minori. Assolutamente. Ecco qua, volevo far vedere altri effetti particolari, effetti roccia, effetti resina, effetti ardesia, per esempio. Beh, per tutti i gusti, dunque, direi. Esatto, questa è una piccola parte di quello che abbiamo in showroom, quindi, ovviamente, per vedere il tutto potete andare sul nostro sito, oppure potete venirci a trovare, che è ancora meglio. Sì, sì, Riccardo, ricordiamolo sempre, perché poi, insomma, noi cerchiamo di darvi quanto più un'idea corretta e completa, però ci rendiamo conto che non è poi il tuo campo base, no? Vale sempre una visita, poi si va, Riccardo, è disponibile, parla. Si tratta sempre di confrontarsi e di trovare una soluzione, vero? Dicevamo, sai che c'è l'amante del effetto legno in casa, magari non è il momento giusto per comprarsi un parquet, e, insomma, bisogna cercare una soluzione diversa. Il PVC esiste in effetto legno? Assolutamente, e qua noi abbiamo un esempio, per far vedere, ecco qua, questo sembra un parquet, ma non è un parquet. Quindi, come si può vedere, vorrei far vedere la flessibilità del materiale e lo spessore, soprattutto, perché cos'è il vantaggio di questi materiali? E' mettere un effetto, comunque un pavimento o un effetto legno, senza andare a toccare i serramenti della casa, per esempio. E' vero? Perché un parquet ha uno spessore che va minimo a minimo, da un centimetro a due centimetri, quindi è necessario, per esempio, tagliare le porte, modificare i serramenti. Con questi materiali noi possiamo, andando, sovrapponendolo a un pavimento già esistente, dare l'effetto che vogliamo senza toccare. Beh, mi sembra di vedere delle venature comunque molto realistiche. Molto realistiche, esattamente. Forse noi parlavamo di un effetto legno anche riguardo ad un altro materiale, no? Adesso mi viene... Ah no, 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 il laminato, sì, perdonami. Esatto, esatto, esatto. Cioè, sia laminato che linoleum che hanno effetto legno sono oramai... Esatto, questo è il materiale che ci permette di avere un effetto di questo tipo in tutta la casa. Quindi voglio dire, se uno ha sempre sognato, tra virgolette, di mettere un parquet in bagno o addirittura nella doccia, per fare un esempio, un estremo adesso può farlo, perché quando posi questo materiale non vedi la differenza da un parquet, da un vero parquet. È vero. Per il realismo che ha, quindi ci permette questo... È bene farle vedere queste cose, perché sai, c'è un po', io ti stuzzico sempre su questo punto di vista ogni volta, però c'è un po' il logo comune, no? Sai, che ti dicono, vabbè, però chissà il linoleum che mi simula il legno, chissà si vedrà subito. Adesso io sono qui a mezzo metro e mi sembra veramente che sia una soluzione ottimale. E' stato raggiunto un livello di realismo, secondo me è incredibile. Quindi comunque la tendenza di PVC e linoleum nelle case sta prendendo piedi. Sta prendendo piede, esatto. Per questo è un materiale che mi sono... che avevo... che volevo proporre e far conoscere alla gente. Hai fatto molto bene, visto che ci hai incuriosito. Se volessimo saperne di più, sito internet www.centromochette.it, ricordiamo, eccolo qui, questa è l'home page, ricordiamo, Senna Comasco, però sempre disponibili a mostrare un po' lo showroom che è bello vasto, eh? Vero? Sì, sì, assolutamente. E allora Riccardo, io ti ringrazio anche per questo appuntamento. Ricordo che sei il titolare di Centromochette. Ci rivedremo la settimana prossima. Assolutamente. Non prendere impegni. Non prendere impegni, eh, che il venerdì sei per noi. Grazie tante e buon fine settimana a te. E anche a tutti voi che ci avete seguito con tanto affetto anche questa settimana. Noi adesso vi auguriamo di passare un bellissimo fine settimana, riposatevi, c'è la giornata del tartufo a Villa Carcano. Ve lo ricordo in chiusura perché è una gollosità, insomma, a 2 dicembre ci sarà questo bell'appuntamento. Vi ritroveremo, se voleste mai, alle ore 12 in diretta di lunedì e saremo insieme, come sempre, a moltissimi ospiti. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti. Grazie per essere stati con noi.